Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Fare attenzione per vento forte in A1 tra Calenzano e la variante di Valico e in A12 tra Pisa e l'allacciamento per l'Aurelia. In A1 ci sono 3 km di coda tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna per il ripristino di un incidente. Sulla Fipilì un km di coda per lavori tra Pisa Aeroporto e Cascina in direzione del Bivio, Firenze e Livorno. Code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Viadotto dell'Indiano in direzione Firenze. Sulla Statale un Aurelia traffico rallentato per un veicolo in panne prima dell'incrocio di Capalbio in direzione Genova. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!